Poracci, bentornati o benvenuti sul mio canale. Finalmente, dopo mesi di attesa, Bethesda ha rotto gli indugi sulla conversione di Doom Eternal per Nintendo Switch. L'anticipatissimo seguito del reboot uscito nel 2016 e l'anno seguente su console ibrida ha di sicuro tenuto sulle spine tutti i fan Nintendo che fortunatamente dovranno attendere molto meno del previsto. Infatti Doom Eternal uscirà su Switch l'8 dicembre, la prossima settimana. Per quanto questa non possa che essere una bella notizia, a mio avviso è necessario fare chiarimento su alcuni punti fondamentali prima di considerare l'acquisto di questa versione, perché purtroppo sono emersi dei fattori che per molti giocatori potrebbero risultare in dei compromessi inaccettabili. Prima di scoprire quali sono, come al solito vi invito a lasciare un like e a iscrivervi al canale attivando la campanella delle porotifiche e non dimenticatevi di unirvi al gruppo Telegram delle offerte poracce se volete continuare a giocare tanto spendendo poco. Iniziamo! Il primo fattore da tenere in considerazione è quello più ovvio, cioè le prestazioni di Doom Eternal su Switch. Non c'è neanche bisogno di dirlo, ma un motore grafico del genere può arrivare su una console portatile solo con i dovuti compromessi. E come è accaduto per il primo Doom? Non questo o quell'altro, ecco. Ad occuparsi dell'ardo impresa c'è stato il team di Panic Button. Ora, dipende molto da che tipo di giocatori siete. Io per esempio non ho avuto problemi a giocare il prequel su librida di Nintendo e per me la portabilità vince a mani basse sulla qualità della resa grafica. Ma se invece volete godere al meglio di un motore grafico a dir poco spacca mascella, che è in grado di mettere in crisi anche le configurazioni PC più mostruose, beh, probabilmente la versione per la console Nintendo non è la scelta adatta per voi. Non ci sono ancora dati ufficiali, ma aspettatevi una risoluzione adattiva che andrà ben al di sotto dell'HD, un framerate non ottimale e dettagli e texture impostati al minimo. Se avete già provato le versioni Switch di Doom e Wolfenstein 2 sapete cosa aspettarvi, un piccolo miracolo strutturato su degli evidenti compromessi. Superato questo primo grande scoglio però ci sono a mio avviso delle criticità ben più gravi per quanto riguarda questa versione. Il gioco purtroppo sarà solo in versione digitale, probabilmente si tratta di una scelta adottata per evitare di slittare ulteriormente con l'uscita del gioco e quindi Bethesda ha preferito optare per una distribuzione only digital di sicuro più rapida e meno costosa, decisione che però ha un certo peso su noi consumatori. Anche senza essere decollezionisti incalliti e feticisti della copia fisica, è ovvio che l'esclusività digitale comporti l'annullamento del mercato dell'usato e non favorisca l'abbassamento di prezzo del prodotto, che salvo salto a risconti potrebbe continuare ad essere venduto a prezzo pieno virtualmente all'infinito. Inoltre non sottovalutate il peso in termini di spazio occupato da un gioco del genere. Per scaricare Doom Eternal avrete bisogno di ben 17.5 GB di spazio libero sulla memoria interna di Switch o su una SD, dimensioni che molto probabilmente li costringeranno a cancellare parte dei software scaricati in precedenza. Ma il vero problema risiede nel prezzo della versione Switch. Per quanto Doom Eternal sia a conti fatti uno dei giochi più importanti del 2020, nonché uno dei papabili goti, sono passati parecchi mesi dalla sua uscita e il titolo ha subito un drastico calo di prezzo su tutte le altre piattaforme. Su PS4 è possibile trovarlo al momento in sconto anche a 20€, mentre su Xbox è addirittura incluso dentro al catalogo del Game Pass, dove questo mese arriverà gratuito anche nella versione PC. Insomma, il prezzo pieno di Doom Eternal per Switch è completamente fuori scala rispetto alle sue controparti ben più performanti. E ancora una volta ci ritroviamo di fronte a quella che potremmo chiamare la tassa portabilità, arrivare a spendere il doppio o anche il triplo per poter giocare in modalità handled. Acquistando Doom Eternal su Switch entro il 22 dicembre si avrà diritto a qualche bonus, come il download di Doom 64 e i contenuti del pack Rip & Tear, ma siamo sicuri che questi elementi uniti ad altre feature specifiche, come la possibilità di usare il giroscopio per mirare, rappresentino una giustificazione valida per il prezzo pieno? Ho i miei dubbi, considerando poi che ad esempio non si ha ancora nessuna notizia su quando saranno disponibili il DLC a pagamento del Season Pass. Della corposa espansione The Ancient Gods Parte 1 non c'è ancora traccia, rendendo a conti fatti la versione Switch quella al momento meno ricca di contenuti. Insomma, per quanto sia emozionato di vedere uno dei giochi più importanti dell'anno arrivare sulla console Nintendo, questa volta l'operazione sembra ricca di compromessi che vanno valutati adeguatamente prima dell'acquisto. Voi poracci, cosa ne pensate? Prenderete Doom Eternal su Switch? Oppure preferirete qualche altra piattaforma? Sono proprio curioso di sapere cosa ne pensate nei commenti. Prima di salutarci, come al solito, vi rinnovo l'invito a lasciare un like al video e a iscrivervi attivando la campanella delle porotifiche per supportare il canale nel migliore dei modi. Io sono il Poro Doom, Michele Eternal, ciao!